Nella terza puntata delle tre rose di Eva 3, vedremo Alessandro che con un gesto eroico riuscirà a salvare Aurora da morte certa all'interno della diga. L'incubo è momentaneamente terminato, ed Aurora può tornare ai suoi affetti, dalle sue sorelle ma soprattutto, dalla piccola Eva. Eppure le circostanze del suo rapimento rimangono sconosciute. Forse qualcuno ha voluto spaventare Aurora che stava indagando troppo a fondo nel passato della famiglia Gori. E qual è stato realmente il ruolo di Edoardo nel sequestro di Aurora? Sicuramente legate al mistero del rapimento, e molto probabilmente anche a quello del pentacolo, sono Veronica e Lidia. La prima che nonostante stia per prendere i voti, continua a coltivare la sua ossessione per Alessandro. La seconda, uscita dal carcere con un permesso premio, ed evasa. Entrambe le donne, estremamente crudeli, sono unite da un enorme odio per Aurora, quindi potrebbero potenzialmente essere coinvolte nel suicidio. Grazie. 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 Grazie.